È un traguardo, abbiamo raggiunto i 30 anni, abbiamo raggiunto la settima presidente, ma non è che ci dobbiamo fermare, anzi, dato che questa malattia non si riesce a fermarla in realtà, almeno ad oggi non si riesce a fermarla, credo che finché la malattia non sarà completamente debellata, le associazioni contro la fibrosi cistica è bene che ci siano ovviamente a tutela dei pazienti, perché tutto quello che è stato fatto anche 30 anni fa da gruppi di genitori continua ad essere fatto oggi da gruppi di genitori con figli malati. Nel corso di questi 30 anni, anche grazie ai presidenti che abbiamo ricordato prima, si sono fatti dei passi avanti, abbiamo ovviamente procurato molte attrezzature nuove, all'avanguardia per il centro fibrosi cistica di Parma, abbiamo attivato il sostegno all'alimentazione durante il ricovero, che è una cosa importantissima, come ci dicono i medici, fin dal momento della diagnosi l'alimentazione è una cosa importante. Abbiamo tenuto a questo passo avanti del poter dare, avendo le risorse per farlo, il sostegno all'alimentazione anche durante il ricovero, che si traduce in buoni pasto fondamentalmente. Non abbiamo dimenticato la ricerca, negli ultimi anni soprattutto abbiamo potuto contribuire alla ricerca scientifica, sia su progetti della fondazione ricerca, sia sui progetti della Lega Italiana Fibrosi Cistica, alla quale noi apparteniamo, insieme alle altre 20 associazioni regionali. Non è che ci fermiamo qua, abbiamo delle cose ancora da fare, perché l'informazione soprattutto sulla malattia, più che sull'associazione è molto importante, quindi dobbiamo andare avanti con le nostre forze, che ripeto, sono aumentate nel corso degli anni, non abbiamo più soltanto genitori, abbiamo amici, abbiamo sostenitori in tutta l'Emilia e anche fuori dalla regione. Abbiamo avuto la possibilità di avere dei grossi sostegni con i nostri delegati di zona, che si sono rinnovati nel tempo e dobbiamo andare avanti in questo modo. Tra i progetti principali che partono dal 2016 e si potranno, non dimentichiamo di sicuro che vogliamo continuare a fornire un aiuto all'alimentazione ai ragazzi durante il ricovero, non dimentichiamo che abbiamo ben due progetti da sostenere a partire dal 2016. Uno è il progetto Trapianti, il progetto Trapianti è un progetto al quale partecipano altre associazioni regionali contro la fibrosicistica. Avremo il progetto da portare avanti del professor Maiuri, quindi dell'Istituto Europeo di Ricerca di Milano e quello sì potrebbe combattere una vasta parte di mutazioni della malattia, insomma ne abbiamo. Abbiamo anche la pretesa, vedremo se ci arriviamo in fondo, di costruire come l'IFC Emilia una sorta di documentario sulla fibrosicistica e sul trapianto, quindi abbiamo già coinvolto alcuni dei nostri ragazzi e qui abbiamo anche una mamma che rappresenta quel ragazzo, li abbiamo coinvolti per poter fare un documentario estendibile non solo a Parma, estendibile in Emilia, estendibile in altre regioni, grazie anche alla Lega Nazionale. E poi abbiamo un altro ambizioso progetto che è quello di, sulla base del manuale di accreditamento dei centri per la fibrosicistica, vorremmo tanto avere, riavere una fisioterapista dedicata al centro, quindi una fisioterapista che lavori esclusivamente per noi e per il centro. È uno di quegli aspetti che secondo il manuale internazionale di accreditamento dei centri dobbiamo cercare di, come a dire, se non ci arriva l'istituzione sanitaria proveremo ad arrivarci attraverso le nostre risorse. Abbiamo della gente che lavora tantissimo, che ci dà delle grandi soddisfazioni in termini di raccolta fondi, abbiamo dei sostenitori che nel tempo sono rimasti grandi sostenitori, abbiamo dei genitori eccezionali di una forza incredibile, ne abbiamo qui qualcuno davvero tosto, contiamo di raggiungere le risorse economiche che ci servono per arrivare a questi risultati, per raggiungere questi obiettivi.